focus progettivo di positive progettivo di pixel zamantrone qui ragazzi siamo ad alto video di bootle legend ragazzi siamo pronti ad andare alla davanti una serie veramente molto bella che stiamo portando molto carina perché è veramente divertente ragazzi vi lascio il video perché ci sono varie visioni che sono veramente stranezza non riesco manco a dirvi guardate a darvi un aggettivo di quello che vedo perché è troppo strano però davvero divertente stavolta ragazzi ci sarà un bel finale nel video eh un bel finale davvero interessante vi lascio allora ragazzi si può salutare salve ragazzi perfetto siamo qui che dobbiamo parlare con Giuseppe è vero davvero 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 questo video qua ok quando cominciamo bene già le conversazioni si iniziamo veramente l'ora del rock in combi su di noi e poi è un modo per dire che adesso andiamo a spaccare la pasta perfetto vi ricominciamo con un nuovo palcoscenico ah che casino raga da che cazzo è vabbè ma che cazzo vabbè mi sono visto che è volante che cazzo è ok ok perché questa cosa scusatemi ok è ok vabbè Gli ultimi domani della scena. Voi? C'è un gatto! C'è un costo e il bambino? Il giusto un uomo in più? Posso volare Swain? Posso volare? Che figata. E poi che devo fare? E poi che devo fare? Questa cazzo devo fare? Eh posso tirare? Eh ma che devo fare ora? Ma che devo fare? Ok ma mi sei... Va bene, devo perdere. Vedo niente. Sono morto perché non si capisce un cazzo. Non c'è una cosa dove è normale in questo gioco. Però mi riesco uscita. Questa è una cosa molto buona. Non ci sto comendo cazzo. Non so che cazzo sta succedendo. Anche perché c'è la base nemica. Il problema è che la base nemica io non la vedo. C'è un tizio che spara cannonate che non si accende cazzo stascio. A meno che... A meno che... Scusa non puoi volare un pochino più in alta. Posso andare qua io. Eh appunto, guarda. Salve. Ok. Così penso che sia morto ora finalmente. Dopo mezz'ora che sono da rompere il cazzo. E ora qua faccio sorgere la mia. Ovviamente. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok. Intanto vedete qua che io faccio così. Uno e via. Che cazzo è? Va la fangula. Cazzo. Salve. Tutto a posto? Uno, due, tre e quattro. Scegli da la faccia. Eh che cazzo. Poi. Non ho manco capito cosa ho fatto però va bene abbiamo vinto. Cazzo. E chiaramente io sono andato morto il creme. Non arrivo ormai. Ma quello è vero che sono bastanti anni. Non mi viene. Non mi viene a fare un po' di giudizio di ragazzi. No. Non ci sono ancora lavorato per Il Lion White. Non ci sono ancora i nostri amici. Noi nostri amici sono quello. Chiamiamoci tutti ragazzi. No. 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 quella che secondo me sa qualcosa in più ragazzi perché ha fatto prima i miei genitori me lo avevano detto ma cosa a me era con noi quello? ma a quanto pare Sven? ma che cazzo? e ne abbiamo un'altra qua con una fatta del essere la faia di nascosto in your really hard to see far away my friends these are roadies and they're here just in the nick of time they're gonna get us through this canyon but first they're gonna need some monster ants come quelli del muro della gilda delle grida ok non lo so ma mi piace come sono la gilda detto di qualcosa ok mi piace che ci vediamo il muro della grida con i due vinci rodi e vedremo se riusciremo a popolarci qualche battito in più perfetto eeeh cosa devo fare? ahahahahah cosa cazzo devo fare? ok allora facciamo una cosa oh me è sul bordello allora facciamo una cosa si si non c'era niente ho sbloccato eeeh andiamo là sotto ragazzi eeeh ho capito mhm ok ho capito ho capito eccoci arrivati ragazzi ciao giuseppe ahle ecco qua i gabbiani come i gabbiani? perché i gabbiani? ok ok eeeh cosa cazzo devo fare? eeeh just wanted to say thank you for eeeh ma che cazzo? ma che cazzo? e quello che succede è che vieni alla... ma io che devo fare? ho capito ma io che devo fare? eeeh 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 qua moriamo se passiamo qua moriamo se passiamo sai che ci sono questi che si scassolino? allora salve permesso scusatemi non volevo dire niente ma io vi squaglio le orecchie suuri aviccenti sape con non non aviccenti che che aviccenti 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 almeno questi mi aiutano aspetta un secondo un attimo ma te stai a rendere conto ma che cosa io non devo nulla andiamo avanti ma scusate ma quel tizio con la moto è morto non lo so come facciamo passare da qua come cazzo passiamo da qua ma che cazzo è il coglione con le ali come cazzo passare da qua 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 hai visto? mamma mia seguitemi seguitemi certo i tizio con la moto potevano morire così come cazzo passare da qua ci sono perso ah no ok dai qua c'è qualcosa di bello qua ragazzi ci facciamo ma che cazzo passare da qua ma che cazzo è successo? ok ti vogliono aiutare? ok posso fare questo? ma perché? eh vabbè i pugni come scala quello di idiota tipo che cazzo crea eh vabbè queste le metto per fare con i computer ragazzi ah che cazzo? ma che bisogna fare? ma che bisogna fare? non ho capito che dove devo andare? ah ok io ci giuro che non ci sto capendo un cazzo vabbè tu stai vedendo vero Sven? si vabbè oh ma che succede? che succede? che succede? ah ma sono con noi queste mi sa si infatti stanno spavendo di grassi ok ok ah ma sono con noi queste mi sa penso perché si infatti stanno spavendo di grassi ok ok thank you ladies quindi si andiamo raga andiamo rimuovetevi però manca che lentezza più veloce io con un tizio con la cassa e voi tutto doveva spare c'erano i malati mentale cioè se ti stai rendendo conto questo gioco è la più strada del mondo veramente ho pensato a tutto non è vero di niente cosa beh voglio assicurare che tu non essi il primo gioco sinistro ragazzo oh non dire cavolate è abbastanza ovvio che ha millarsi sta giustamente è un grande un grande leader un grande leader nonostante nonostante eroeico non è così difficile da guardare anche se il suo testo è il suo testo e lo ho visto è andato delle teste va a posto ragazzi abbiamo la tipa mentre sta curando il mondo nel frattempo ora ce l'abbiamo è come un frattempo E' questa, davide la sua ragazza, davide! No, ti devo andare a fare un guru pro, cazzo! La vittoria brutalissima questa, proprio, guarda che caso! Esatto! Do you mind if we went back separately? I just don't think a bunch of gossip would help us right now, ok? Giaccia! Istruttore di baci francese! Ho sbloccato Dark Inman, ragazzi! Vabbè, lasciamo perdere! Detto questo, ok, andiamo da quella parte! Cufetti, eccoci qua che si è subito in atto, ho avuto il video di Blood and Legend concluso, lo svegli in testo, sai cosa fare ovviamente, dato che comunque si è al capitolo. Certo! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando mettetevi piace, iscrivetevi al canale per non perdere altri contenuti, in descrizione come sempre trovate tutti i contatti per notare ZigZang99, anche il link della pagina Facebook, mi raccomando mettetevi piace, seguitevi che è davvero molto importante, anche il link per le donazioni, per chi vuole farci più donazioni, e io sono in testo, come sempre, vi mando un forte abbraccio e mando la parola finale a ZigZang99, prego! Sì, avete visto un altro video di Blood and Legend, questo gioco sta diventando sempre più strano, però è sempre bello ovviamente, mi sto divertito a giocare a questo gioco, perché nonostante non si capisce un cazzo di quello che si deve fare, ci sono quelle piccole cose che ti fanno ridere, quindi comunque sia ragazzi, è un bel passatempo, ve lo consiglio, se piace il rock ancora meglio, perché comunque sia, durante il gioco ci sono un sacco di canzoni rock, come appunto vedete. detto questo noi ci vediamo nel prossimo video, bella profetta! Ciao! Ciao!